e ciao a tutti ragazzi sono le ronchi bentornati in un nuovo video oggi siamo su formula 1 2019 oggi siamo ritornati sulla terzo episodio di back on the grid ragazzi oggi voglio fare un mini test della telemetria che ho appena preso su app store ovviamente è una telemetria che vedrò solo io non voi magari vedrò innanzitutto quella della telemetria che parlo e la telemetria dei tempi magari vedrò se inserire anche la telemetria del volante il fatto è che questo non è un volante che abbia una telemetria quindi dovrò un attimo valutare innanzitutto io vorrei sarei interessato a volere utilizzare la renault del nostro caro sorrisone come lo definisce alle ronchi assieme ad erix detto ciò noi lo selezioniamo corriamo al gp di casa super proprio acqua e qua ho fatto facciano i test quelli i mini test quelli del non so come dirlo io mi ho fatto il test sulla telemetria e quindi ovviamente io ce l'ho qua a fianco voi magari dove vedete leggere un piccolo sulla camera ma servono solo a me per il momento così posso anche capire un po pre posso prendermi un riferimento su chi mi sta davanti intanto qua la cazzo di ebay non mi interessa facciamo qualifiche brevi nove difficoltà sempre la stessa la danno veicolo safety car si sarebbe stato interessante vedere come sarebbero le situazioni con la safety car vabbè niente ragazzi noi ci vediamo direttamente alla qualifica ok e ora ragazzi adesso vedo la telemetria da qua che si è attivata detto ciò imposto un attimo il volume della televisione perché se no rischia di sentire se no si rischia di sentire un doppio rumore nella fase di montaggio del video niente adesso noi vedremo che cosa succederà in qualifica e noi ovviamente ragazzi partiremo ultimi la renault non è un'auto lentissima quindi possiamo dire che ne vale la pena provare a vedere cosa riusciamo a fare con un'auto meno prestante dall'ultima posizione invece di farlo sempre con un top team vediamo cosa succede con un team di minori prestazioni detto ciò ci vediamo i risultati della qualifica ok allora i primi prime tre sono emilton bottas effetto quindi prima fila tutta mercedes e qui è terzo il nostro caro sebastian e nico ulkenberg il nostro compagno di scuderia e settimo quindi come vi l'ho detto prima ragazzi non è impossibile perché infatti ulkenberg è nel diciamo il primo del primo degli altri quindi diciamo è il primo dei sarebbe in pole position nella categoria degli altri quindi possiamo dire che non è impossibile tentare una rimolta perché tra l'altro il nostro caro sorrisone avrà sicuramente la la renault più sviluppata no possiamo dire diciamo quest'anno è stato primo pilota l'anno scorso è stato primo pilota vedremo come riusciremo a avanzare in questa gara detto ciò noi ci vediamo direttamente alla griglia di partenza ok ragazzi siamo siamo in griglia siamo ovviamente ultimi detto ciò prima di iniziare vi voglio chiedere di iscrivervi al canale mettere like su questo video e condividerlo ai vostri amici e detto ciò noi partiamo subito non perdiamo tempo aspetta prima di fare tutto ciò voglio vedere un attimo la strategia è vero che non siamo un top team però vorrei tentare a fare la stessa strategia che faccio con i top team oh addirittura ci sono le medie vabbè facciamo così facciamo facciamo medie e poi facciamo super soft per fare giro a cannone noi togliamo un chiletto perché tanto non ce ne facciamo niente sono in totale 15 giri un giro mi basterebbe detto ciò iniziamo subito attenzione scattare i semafori scatta in questo momento il gran premio d'austradia non buona una partenza del nostro caro sorrisone al suo gp di casa con la sua cara renault e subito in una con le sue tipiche staccatone attenzione il sorrisone rischia di essere buttato fuori da gasli attenzione rischia di far di farsi buttare già la prima curva tipico delle prime gare inizio stagionale attenzione il sorrisone si fa risentire nei confronti di gasli ma gasli di nuovo li butta fuori ma no da sti francesi francesi mamma mia attenzione qua davanti si è creato un mucchio si è creato un mucchio pazzesco intanto vado attenzione il sorrisone ci riprova di nuovo a niente non riesce niente non si riesce a superare gasli oggi ragazzi oggi finiremo oggi la gara la finiremo in diciottesima posizione il toccio ci riprova di nuovo di nuovo per la quindicesima per chissà quante volte ci abbiamo provato su gasli e ci siamo riusciti intanto emilton riesce a fare un riesce a fare tutti e due i settori migliori attenzione con il sorrisone che è già all'attacco di antonio giovinazzi intanto danni e ricciardo il nostro caro sorrisone tenta un'altra staccata un'altra staccatona attenzione erroraccio 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 clamoroso erroraccio clamoroso erroraccio clamoroso clamoroso attentato c'ha preparato il soppasso e adesso è costretto a ripartire in fondo ma stavolta ha già un casino di tempo da recuperare mamma mia detto ciò adesso dobbiamo ripartire e recuperare il gruppo davanti detto ciò ragazzi dovrò magari tagliare un attimo perché non avrebbe senso adesso far vedere una corsa a vuoto intanto ragazzi abbiamo recuperato nel confronto del gruppetto davanti stiamo girando all'incirca un secondino più veloce del gruppetto davanti quindi stiamo già recuperando ovviamente ho dovuto tagliare qualche giro perché la situazione era si è capovolta perché non sono rimasto dovuto sto dovuto un attimo concentrare sul gruppetto per recuperare il gruppetto davanti perché sennò non sarei riuscito a poter andare avanti intanto c'è stato un ritiro di albon e mortacci loro non hanno tirato fuori la safety car mannaggia loro mi sto tanto consumando tutta la benzina per cercare di recuperare il gruppetto davanti ti sembra che devo usare la grassa per recuperare le due williams mannaggia tanto le tanto le vedo già davanti quindi è già è già qualcosa non credo che riusciremo ad arrivare in top 10 oggi ragazzi sarà molto a meno che non è appunto una safety car e ci salva però sembra molto improbabile l'entrata di una safety car a quanto pare perché albon era proprio in mezzo ai maruni e non si è fatto e non è entrata nessuna non è entrata nessuna safety car vabbè vedremo adesso cosa succederà intanto ci siamo avvicinati nel confronto del confronti del gruppetto davanti adesso vedremo il tempo il passaggio tanto cubizza passa quello davanti a noi 1 29 4 1 e 28 e 7 quindi quindi non è che siamo lenti stiamo recuperando piano piano ovviamente non posso dirvi settori perché sennò qui vi rischio di andare lungo fisico nella ghiaia ciao però oggi sono già qua davanti comunque mi sa che c'è qualcuno qui che sta facendo da tappo mi sa che sembra un alfa romeo quella che vedo io sulla sulla mini mappa potrebbe essere o kimi o giovinez però io vorrei almeno raggiungere queste williams ora siamo quasi praticamente a metà cara dai però dai io non voglio rimanere indietro non voglio finire indietro le williams cos'è un flashback di monza 2019 con vettel dai anche no è l'immortaggio sua non ho il drs e niente vabbè comunque siamo già siamo sotto siamo sotto dei due williams attenzione si riapre uno scenario uno scenario nuovo attenzione che qua rischio attenzione nico entrato ai box e già qualcuno rientra ai box attenzione noi però abbiamo attenzione abbiamo la drs nei confronti di cubizza cubizza si mette all'interno attenzione no ci sono vettore che stanno uscendo dal box attenzione si crea un casino vado mamma mia mamma mia che che gara no cazzo eh ma sebastian ha spinnato di nuovo sebastian ha spinnato di nuovo anche no attenzione di nuovo ci proviamo senza fare crash di nuovo con sebastian che ci sposti spinge ci spinge attenzione sebastian ci prova ci prova madonna che velocità e io ce li provo di nuovo e il sorrisone ritenta una staccatona intanto si trova luigino davanti a noi con giovinazzi che gli fa da tappo attenzione eh madonna attenzione sebastian ci sta attaccato sebastian ci prova in bloccaccio di nuovo mamma mia il sorrisone di prendere la scia perché non ci sta però la ferrari è superiore di potenza quindi deve lasciare il passo alla ferrari c'ha più passo la ferrari c'ha più velocità la ferrari infatti il luigino sta scappando subito da sebastian perché sa di avere giovinazzi alle spade che potrebbe fare da tappo ma credo che adesso lo supererà in regime di drs attenzione è la madonna tanto madonna la velocità della ferrari che dall'interno attenzione grande gara di sebastian che dall'interno supera giovinazzi però attenzione anche il sorrisone ci potrebbe provare qui non si può passare non si può passare qui non si può passare il sorrisone passa attenzione il giovinazzi ci prova di nuovo di nuovo giovinazzi a di nuovo dall'interno che diventa esterno super prestazione attenzione a quanto pare c'è Verstappen che ha un problema ma Verstappen a quanto pare sembra il cazzato nero lo stesso è il cazzato nero comunque in bestia dito attenzione dovremo rientrare i box per mettere il super soft infatti ci ritroviamo in sesta posizione davanti dietro ai big però c'è un ferocissimo Verstappen che non vede l'ora di superarci ma gli stiamo facendo la tappa infatti sa che non deve perdere troppo tempo nei confronti della Renault perché sa che i suoi rivali sono la ferrari e la mercedes che sono davanti ma a quanto pare la nostra Renault non ha la stessa prestazione delle altre vetture davanti e compresa della Red Bull attenzione Alex ci avvisa che la nostra Renault inizia ad avere dei problemi al cambio no buona sta cosa no buona sta cosa ma con GP2 engine fosse un GP2 engine posso comprare ma un motore Renault no anche no dai la sfiga oggi per il nostro caro sorrisone sta non sta nella sua sta attenzione Lugo attenzione nella ghiaia nella ghiaia mamma mia adesso dovremo rientrare per mettere il super soft adesso vediamo di non beccarci altri 5 secondi di penalità magari ai madò oh a sto giro non mi ha dato 5 secondi almeno quello almeno quello attenzione attenzione c'è giovinazzi ai box dai riparti prima che arriva statri attenzione siamo davanti a giovinazzi che mette le soft ma noi siamo con le super soft quindi dovremmo andare un po' più veloci con il gruppetto credo che sarci vorrà un'impresa attenzione il sorrisone si addormenta come sempre come hanno fatto gli altri alla fine come abbiamo usato tutti i piloti ogni volta all'uscita dai box a livello manuale dobbiamo attenzione lando norris fuori attenzione ma va a cagare ora doveva uscire la safety car ma va a cagare dai e dai lando ora doveva uscire la safety car usciva prima ma vabbè a questo punto cambia tutto vedremo che cosa succederà in questo regime di safety car vedremo quanto riusciremo a guadagnare nei confronti del gruppetto davanti perché ora siamo diciassettesimi detto ciò ragazzi noi ci vediamo direttamente al giro finale della safety car ok ragazzi la safety car in questo giro mancano 12, 13, 14, 15 giri mancano 3 giri mancano 3 giri al termine di questo gran premio noi però abbiamo un vantaggio di avere le super soft quindi abbiamo la possibilità di recuperare qualche posizione vedremo se riusciremo a prendere la top 10 ci vorrà un miracolo ci chiederà un super miracolo intanto noi mettiamo già in grassa per andare all'attacco dei rivali detto ciò noi non abbiamo niente da perdere in confronto al gruppo davanti attenzione sta per ripartire la corsa dai attenzione attenzione sta per ripartire noi dobbiamo rimanere incollati a Kubica che riparte adesso la corsa va a dire a verde via attenzione attenzione il sorrisone prende subito la scia della Williams di Kubica vediamo se ne succede come prima attenzione all'esterno della Williams forse abbiamo chiuso un po' troppo ma vabbè non c'è stato nessun test a coda per la confronto della Williams quindi il nostro caro su decisione finisce in 16 in posizione intanto va a caccia di Russell e di Grosjean che se le stanno dando di santa ragione attenzione mi rischiavo di andare addosso tanto lotta lotta serratissima dai dude attenzione il sorrisone potrebbe tentare la stacca tonico frate di Russell e vabbè con l'avvertimento attenzione quindicesima quindicesima andiamo a raggiungere la quattordicesima di Grosjean andiamo a raggiungere la quattordicesima posizione del Cnex compagno di scuderia di Aleronchi che se ne pentacoro di averlo avuto come compagno di scuderia di Nas due anni e mezzo due anni fa e mezzo non so come si dice attenzione nei confronti di Grosjean ha tagliato forse è stato un po' troppo aggressivo ma vabbè ci sta ci può stare dai 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 lasciamo perdere andiamo avanti andiamo a recuperare la tredicesima di Cazri potrebbe andare a tentare a prendere la top ten potrebbe andare a prendere il punticino che potrebbe essere una buona soddisfazione negli GP di casa del nostro caro Sorrisone tanto di cattiveria ci avviciniamo attenzione siamo già davanti stiamo già davanti a Gasly dove prima c'è stato il contatto vediamo se adesso non ci sarà un altro contatto attenzione il nostro Sorrisone prende la scena di Gasly ma Gasly si mette all'interno e il Sorrisone tira una staccatone della madonna e riesce a superare Gasly adesso ha di nuovo la 12 appunto la 12esima potrebbe veramente puntare alla top ten Kivyat su Kivyat il Sorrisone e passa la 12esima attenzione potrebbe veramente andare a raggiungere la top ten incredibile manca ancora manca ancora da coppia in un altro giro ma potrebbe veramente andare a deguagliare la decima posizione attenzione su Nansstroll ma non ci riesce mamma mia che finale che è il finale su un gruppetto da recuperare per poco non facevo la rima attenzione il Sorrisone di nuovo sulla 11esima posizione su Nansstroll è stato un po' troppo aggressivo anche qui è stato un po' troppo aggressivo ma qui ma vabbè si tira avanti si tira avanti attenzione Nansstroll ci prova di nuovo sul nostro caro Sorrisone ma il Sorrisone si difende di nuovo si difende di nuovo e deve andare a caccia di Carlo Sainz del punticino attenzione c'è Max Verstappen che è indietrissimo ha avuto sfortuna lui nel regime di safety car attenzione ex compagno di scuderia di del nostro caro Sorrisone che se n'è andato subito ma attenzione qui non si può passare qui non si può passare il Sorrisone passa passa in decima posizione e va a caccia di Max Verstappen che ha una buona accelerazione del nostro caro Sorrisone attenzione ruota 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 all'ultimo giro manca ancora un giro attenzione Carlo Sainz si fa sotto di nuovo il Sorrisone ci riprova di nuovo su Max Verstappen non ci riesce attenzione blocca la strada all'ultimo giro all'ultimo giro deve difendere quel punticino che gli è rimasto sono al limite delle loro possibilità sono al limite delle loro possibilità attenzione l'Ostroll ci riprova di nuovo l'Ostroll ci riprova ci riprova di nuovo e non ci riesce nel confronto di Sorrisone il Sorrisone deve riprovare a tentare a raggiungere Max Verstappen che a quanto pare non sta andando molto bene la Red Bull come ha detto prima Alex sta andando sta iniziando ad avere dei problemi quindi vedremo se riuscirà a recuperare Max Verstappen all'ultimo momento se ci riuscirebbe sarebbe un'impresa però attenzione è già qua vicino è già qua vicino la Red Bull ha problemi e il nostro caro Sorrisone deve riprovare deve tentare deve tentare il sorpasso attenzione DRS qua ci potrebbe essere il sorpasso DRS spalancato DRS spalancato all'ultimo giro con Verstappen che si mette all'interno attenzione tira la staccatona all'ultimo giro delle ultime curve super Max Verstappen passa in ottava posizione no la posizione scusate vince Martiri Bottas come l'anno scorso nella realtà 2Q in Makersen FarQ attenzione perché il nostro caro Sorrisone dall'ultima posizione potrebbe andare ad eguagliare un ammeritatissimo non l'opposto che gara che gara ragazzi mamma mia è successo di tutto in sta gara è successo di tutto mamma mia intanto le prime dieci posizioni sono Bottas Hamilton Fett Leclerc Perez Magnussen Urkamer Raikkonen il sorrisone e Max Verstappen che viene superato all'ultimo dal caro Sorrisone all'ultime curve grande prestazione grande gara della Renault che da Renault si porta a casa un buon bottino di punti con Urkamer settimo e Ricciardo nono ottimo GP ragazzi veramente io mi sono divertito tantissimo è vero che questo video sarà un po' più corto ma meglio la qualità che la quantità no si dice sempre così tanto si replica il podio dello scorso anno manca Max Verstappen sul podio perché l'anno scorso non c'era Vettel ma c'era Max Verstappen ma in questa gara Verstappen è arrivato nono ok ragazzi siamo a risultati siamo stati eletti come pilota del giorno beh vorrei anche vedere visto che siamo partiti ultimi abbiamo beccato a gaslicia buttati fuori e siamo dovuti ripartire in fondo è entrata la safety car dopo che noi abbiamo fatto il speed stop quindi questo ci ha un po' sfavoriti ma non del tutto per il semplice fatto che abbiamo avuto una mescola più morbida e quindi siamo riusciti ad avere una prestazione migliore dalla sedicesima posizione fino alla nona posizione in tre giri tre quattro giri quindi devo dire che mi sento soddisfatto di questo gran premio mi sono divertito veramente tanto in questa gara veramente non so voi ma devo dire che mi è piaciuto questo gran premio molto meglio di confronto degli altri due che abbiamo fatto nei primi due episodi di Back on the Grid ebbene ragazzi detto ciò io per finire spero che vi sia piaciuto questo video iscrivetevi al canale mettete like e niente vi saluto alle roghi bello per tutti bello per tutti